Eccoci e bentornati sul mio canale, a proposito è bentornato sul mio canale andiamo a mutare tutti, perfetto Ci andiamo a fare una bella partita su uccisione confermata, siamo arrivati a livello 38 e che cosa si sbloccava a livello 38 ragazzi? Ghost! Quindi c'è sta uno là, ce lo siamo presi già con la granata Cacchio però, ce lo siamo già sbloccato e praticamente adesso sono un fantasma ragazzi, qualunque WAB lanceranno i nemici non mi vedranno Cosa veramente molto comoda Però prendi le piastrine amico mio Tutti stiamo in due cacchio, ragazzi, ah ok in tre Perfetto E che cacchio! Mi sono lasciato il CUDA che avete visto nell'altro video, quindi presumo nel video di ieri Cacchio, bella kill, cacchio però sono troppi, non ti so Ah, tre contro quattro, penso in che partita strana siamo entrati E stavo dicendo, mi sono lasciato il CUDA col silenziatore e ovviamente i ghost Così che praticamente stiamo tranquilli e non ci vede nessuno C'è sta un'altra, ragazzi Che cacchio però, questo mi ammazza sempre Mannaggia la tua miseria, oh Che cacchio Quello mi ammazza sempre, che cacchio c'avrò Io con quello che non riesco ad uccidere Tipo uno lo riesco a ammazzare con tranquillità Tipo un paio, soprattutto quelli là che sorceri Mentre quello là mi crea proprio grossi problemi Guarda che tu cacchio, mi sta aspettando A fondo mappa e io puoi giocare col Da silenziato non è facile Alla lunga distanza Ah, indietro la roccia stava Cacchio 16, 14, 7, 6 E vabbè però E morì Mannaggia Non muore Non muore Che cacchio Oh, non muore Santo il cielo Santo il cielo Santo il cielo Proprio Cacchio Questo non sta a fondo mappa è rinato Dai Dai Oh, se entra qualcuno Va, meno male Se entra qualcuno Perché Ok Perfetto Entrata un po' di gente Va Entrata un po' di gente Si è ringraziato il cielo Dai Andiamo giù Hostile UAV Spotted Piano, piano, piano Facciamo il giro da qua Va Oh cacchio Quanti Quanti là Ci hanno visto? No Ci hanno visto Mappa le piastrine però Corremo Sperando che non ci prenda nessuno Ok Eccone uno No Bello Meno male Ho sentito che Ci arrivava alle spalle Quindi Bello Preso Perfetto Ok Ok Ti arriva Ok Ok Il primo arrivava Dai Perfetto Ok Ti muoce di qua Perfetto Dai 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 Ci sta No Eccolo Ok Non li trovate ragazzi Ok Andiamo ma Corri 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 Oh Tutte fa male Ok Bello Preso le palle ragazzi Palle rotanti Palle rotanti Via Raps inbound Non male però È una belle serie Che siamo riusciti A riportarli In In Quasi Palle Oh Che cacchio è Mi rompe L'anima Da dietro No Chi è Ah Ci sta Il cacchio De cosmo Canassa picca dentro L'aereo nemico Non mi viene il nome Ma le palle Stanno a uccidermi qualcuno Oppure stanno così a giocare Stanno a giocare Mi sembra Mi sembra Che stiano giocando Eccole uno Perfetto Detta un altro L'hanno ucciso Dai Vota silenziato Le spalle È fantastico Perfetto Quando sei in fantasma Ragazzi È una cosa Epica Che riesci a prendere Senza se E Senza ma Ok 41 35 Ci siamo riportati Stevalli Che cacchio Stanno a uccidere qualcuno Oh Rapsicino Perfetto Aspetta Aspetta No Co che mi ha ammazzato Dai Guarda che cacchio De fortuna Allora Eccoli qua Bello E so 5 Mamma mia Devasto 28 12 28 12 Grande amante Quando Quando Gira la connection È tutta un'altra cosa Mamma mia Interferenza elettromagnetica Un'altra ancora Che sta Bam No No Io ricaricavo Con che sto cuda Mi sta piacere Raspirato Ragazzi Vi ringrazio Vi ringrazio Tutti coloro Che me l'hanno Consigliato No No È già stata l'interferenza Vai 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 Corri amanti Questo è mio Ok Andiamo di qua Perfetto Bello che Quando sei un ghost Che non ti vedono È una figata Pazzesca È una Figata Pazzesca Perché non ti vedono Perfetto Andiamo 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 No Cacchio L'avevo quasi preso Andiamo Dei missile Airstorm Corri Che qua Ci stanno Ci stanno Forza No Cavolo Me l'ha ammazzati Quello Aspetta Che cacchio Oh 4 Non so come Non so come Ma intanto 4 Grandi 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 Questa Una bella Piastrina 71 48 Partita Evocale Oh Era iniziato Un po' In sordina Poi Ha cominciato A decollare Con le serie Di punti E altre belle Kill Che ho fatto E sto cuda Che veramente Mi sta Dando tante Soddisfazioni Ok 75 A 50 Ragazzi Spero che il video Sassi posto Gratimento Se vi è piaciuto Iscrivetevi sul mio canale Mettete un bel mi piace Sul mio video E ci vediamo con tanti Noi video Sempre qui Sempre sul mio canale